Questo è Mobike, il nuovo sistema di mobilità voluto dal comune, biciclette che si possono prendere e lasciare dove si vuole, esteticamente gradevoli, certamente una buona alternativa alle automobili, ma siamo sicuri che tecnicamente sia un mezzo valido, l'abbiamo chiesto a chi macina chilometri e quindi se ne intende di biciclette. Via al nostro test Mobike. Enrico Lavazzi è un atleta, ex pilone di rugby che insieme ad altri amici fa parte del Petrarca Bike, associazione di ciclisti dilettanti che oltre a partecipare a molte gare, spesso pedalano per beneficenza. Allora, la salita come si affronta con questa bicicletta? La bicicletta è molto maneggevole, ha un rapporto agile, non c'è molta velocità però credo che per il centro abitato sia perfetta. Se uno mette qualcosa sul cestino e appesantisce la bici? Beh, diciamo che risulta abbastanza leggera la bici in per sé, quindi basta che non si carichi una damigiana, credo che sia una cosa fattibile. Quindi prova salita del cavalcavia stazione, superata? Sì sì dai, diciamo un bel otto, magari la sconsiglio per una tappa del Giro d'Italia con gran premi importanti, però per il resto per la città va benissimo. Prova slalom, prova maneggevolezza? Ottima, perfetta, come avete visto si guida benissimo, è super maneggevole. Prova slalom superata? Voto? Otto. Ma Laura d'emergenza, qui c'è un cassonetto che è in posizione un po' pericolosa, come è andato? Effettivamente sì, per fortuna il cassonetto non si muove, non saprei in un caso di emergenza estrema come mi sarei comportato, però la bici ha frenato bene, quindi si riesce a gestire anche i casi più improvvisi. Voto? Restiamo sull'otto. Non bisogna avere molta fretta perché la velocità è ridotta, però ci sta perché in mezzo al traffico quotidiano la velocità ridotta ci va benissimo, magari se il sistema di app riuscissero a tenere aggiornate quelle non funzionanti perché ne abbiamo trovato due che non erano funzionanti però risultavano nell'app. Restiamo sull'otto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.